Salve a tutti, io a volte penso, innanzitutto penso che la gente non guarda i profili, non guarda le informazioni e poi propone cose che magari uno o già fa oppure non è interessato. Prima provate a conoscere bene le persone in pubblico a fondo, chi si mostra con nome e cognome, con la foto del proprio volto nel profilo perché è inutile cercarmi e dirmi come ha fatto una persona sulla messaggistica di Instagram che gli ho risposto per l'educazione perché io sono educata anche se non mi piacciono le chat gli ho risposto, questo mi ha proposto, ti interessa fare la consulenta Avon? Ecco, i prodotti Avon, queste cose, io gli ho detto, scusi, sono consulenta Avon, ho il mio shop, ne interessa il mio shop? Che dovevo dire? Quando è scritto tutto sul mio profilo, informazioni o anche se andate su Facebook e vedete tutte le informazioni che ho messo veritiere Grazie a tutti!